Siamo nel 56. Come sapete il protagonista del film è Egno, redattore dell'Unità, giornale del Partito Comunista Italiano. Ma perché in Italia c'erano i comunisti? I comunisti non vivevano solo in Russia. Azione! Poi faccio un film una volta ogni cinque anni. Ho fatto tutto per produrre questo film. È il progetto più importante. Deve essere sempre lo stesso, se no poi va tutto male. Tua madre produce il film di un altro regista. Non va bene così, è tutto diverso. Emma ti ha detto almeno come si chiama il suo ragazzo? Non aspettiamo suo figlio? Non ho film. Da anni mi aspetto che Giovanni cambi. Ora ha iniziato a girare il nuovo film. Top! Quale scena d'amore? Questa è una scena in cui parlate di politica. Questo è un film d'amore? Azione! No, 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 scusate! La scena che stai girando fa male al cinema, lo capisci? Voglio lasciare Giovanni ma non ne sono capace, non ci riesco. Non è mai il momento. Il nostro rendezvous è confermato su Netflix. Netflix? I nostri prodotti sono visti in 190 paesi. 190 paesi. 190 paesi. Comunque c'è un grosso problema. In questo film manca un momento what the fuck. Puff! What the fuck! Musica! Giovanni stare con te è diventato sempre più difficile. Ti chiamo Martin Scorsese? No, penso che ci dovremmo separare. Pierre, che succede? Ciao a tutti! La storia non si fa con i sé. E chi l'ha detto? Io invece la voglio fare proprio con i sé.